Buongiorno a tutti, buon sabato e buon fine settimana. Siamo prossimi ormai alla terza domenica di Avvento, la domenica della gioia. Anche la candela rossa ci invita a questa gioia perché il Natale è ormai alle porte. Come sempre iniziamo la giornata rivolgendoci al Signore perché il nostro aiuto viene dal Signore e a Lui domandiamo forza, benedizione, pace, salute e ogni cosa necessaria per camminare. Il Salmo 79 che ascoltiamo nella liturgia del sabato così dice ed è un'invocazione sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci vivere e noi invocheremo il tuo nome. Che questo sia davvero un programma di vita. Non ci allontaneremo mai più da te Signore. Benedicici, donaci la forza, la grazia, la pace e allora preghiamolo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Un bacio a tutti. Vi voglio bene sempre.